buongiorno a tutti, e si mi sono fatta male, si mi sono fatto un taglio che forse c'era bisogno anche dei punti però lo sto disinfettando tutti i giorni quindi spero non succeda niente allora oggi giveaway, gentilmente la Bionique France ci ha omaggiato di tanti prodottini di makeup quindi ringrazio, ringrazio questa azienda che ci fa questi bellissimi regali e sono contentissima che voi possiate vincerli ma di cosa stiamo parlando esattamente? il primo ombretto è questo bellissimo rame che poi è lo stesso che ho sulla palpebra infatti questo è il trucco di un tutorial che o avete visto o vedrete sul canale di Bionique Francia comunque è questo qui, un altro bellissimo colore è questo grigio perla, molto molto bello e poi abbiamo un bellissimo grigio antracite nero che ha delle micro paiuzze, vedete, non so se si vedono comunque ha delle micro paiuzze bellissime, due matite occhi, una è la viola che poi è la stessa che indosso sempre qui all'attaccatura l'altra è la burro, quella che va all'interno della rima per fare l'occhio più grande per schiarire la congiuntiva poi abbiamo un bel correttore, correttore color corallo, quello più numero 3E che va a correggere la discromia più blu, quindi anche un pizzico sul contorno occhi e poi andate tranquillamente anche a omogenizzare con il fondotinta è proprio ideale, proprio per gli occhiai blue strong per concludere gli occhi, un mascara questo mascara qui che è volumizzante ma soprattutto ha questo scovolo pazzesco che è effetto volume, ciglia finte lo sapete che se mi seguite sapete che io lo utilizzo veramente tantissimo perché ho gli occhi estremamente sensibili e la congiuntiva mi si infiamma facilmente quando metto mascara un po' aggressivi per quanto riguarda le labbra abbiamo due bei rossetti questo qui che è un begonia e questo che è iris vi assicuro che iris è identico ad Aero Andy Mac è un dupe a tutti gli effetti lo vedete qui che sembra un viola più scuro ma in realtà è un viola un po' più caldo proprio quella Aero Andy Mac ma sono un po' più cremosi il finish è simile a questo solo che qui ci ho messo il gloss al di sopra a proposito di gloss eccoci qui ultimo prodotto è il gloss fucsia questo qua, questo bellissimo bebo, babble, babble perché ho detto bebo e babble? volevo dire baby e babble insomma per vincere questi bellissimi premi dovete seguire delle semplicissime regole prima di tutto dovete essere iscritti al mio canale iscritte e iscritti e dovete essere iscritti iscritte al canale anche di Bioniche Francia che vi linko qui sotto tutti i link vi chiedo anche di essere iscritti alla loro pagina facebook quindi Bioniche Francia io già vi ho parlato di quello che sto facendo per loro e quindi mi piacerebbe che vi iscriveste anche lì però se non avete facebook posso capirlo non fa niente perché questo è un concorso da youtube quindi lascio qui la cosa mettere mi piace sotto questo video e lasciare quanti commenti volete nel commento però vi chiedo una cosa carina mi piacerebbe sapere se avete provato qualcosa di questo brand come vi siete trovate se avete magari provato qualcosa grazie a me perché magari ve ne ho parlato in qualche video come vi siete trovate oppure magari che cosa vi piacerebbe provare insomma quello è il succo il succo della questione i vincitori saranno ben 5 vincitori e niente io spero che questo giveaway vi faccia piacere e vi mando un grosso bacio ciao 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 Grazie a tutti